Ciao creativi, io sono Lilla e voi stai guardando Girlie Dye apro con voi per la mia primissima volta le Ama Mini ecco qui il pacchettino che ho comprato se avete visto il mio unboxing quando ho fatto l'ordine su www.perlineadastirale.it avete già visto girare questo pacchettino e adesso voglio aprirlo con voi questo pacchettino come vedete ha 2000 perline e l'ho preso multicolore se non avete mai usato queste perline ma volete iniziare credo che questo sia il pacchetto giusto dentro ci sono 48 colori perché ho scelto questo? perché costa 2,44 euro quindi è una spesa piuttosto affrontabile e nel caso non mi piacessero ho comunque speso 2,44 euro e non ho speso una grossa cifra le posso impacchettare e regalare a chi le vorrà usare mentre se avessi comprato tantissimi colori magari avrei fatto una spesa più grossa ovviamente insieme al pacchetto ho deciso di prendere queste due basi ho preso le più semplici infatti ho preso le quadrate ma sono ben due basi e le ho pagate 4,70 euro voglio iniziare proprio da queste apro queste è sempre del lama queste qua mini quindi è segnato mi sembrano veramente deliziose in più sono componibili all'infinito qui ci sono delle spiegazioni e il marchio c'è quindi la comunità europea ci dice che possiamo usarle tranquillamente come vedete sono componibili ad incastro poi rincastrerò meglio e possiamo fare una super mega piastra gigante da tutte le parti ecco fatto così passiamo adesso alle perline anzi guardiamo magari prima che cosa ci dice il foglietto che ho trovato mi dice che sono made in Danimarca che i bimbocci al di sotto dei 3 anni non possono usarlo e sono felici i bimbocci i bambini ragazzi al di sopra dei 10 perché possono usare tranquillamente questo prodotto infatti età più 10 10 più avvertenza non adatta ai bambini di età inferiore ai 3 anni perché contiene parti piccole ok 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 siamo tutti a posto perline ed eccoci qua apriamo il pacchettino io lo metterò qua dentro ho usato lo sfondo nero perché spero possiate vedere tutti meglio e sul sito se poi vi innamorate delle mini ovviamente ci sono i pacchettini monocolore quindi una volta che uno sa di aver bisogno si prende poi i colori che vuole molte volte mi scrivete dei messaggi privati e mi scrivete sai devo comprare le perline che con che colore inizio vi voglio dare questo consiglio generale che se volete comprare le perline fatelo con un progetto cioè ad esempio volete fare palloni da basket teschi e magliette della juve sapete che il bianco e il nero sarà il vostro acquisto salutiamo tutti quelli delle altre squadre nel frattempo oh mio dio che colori meravigliosi ed eccole qui le perline sembrano caramelle sembrano gioia a forma di perline ve le avvicino così potete vedere tutti i colori sono 48 e sono meravigliosi come funzionano? funzionano esattamente come le perline midi ma hanno ho fatto un video a parte perché praticamente è un po' un mondo a sé perché hanno una resistenza maggiore e anche una flessibilità migliore probabilmente perché facciamo magari dei pezzi un po' più piccoli prendiamo subito la nostra lastra il nostro telaio ecco qua metto a fuoco e stringo e vi servirà come al solito la carta forno e poi il ferro a temperatura media acceso ovviamente e per prenderli questa volta non utilizzeremo le pinzette ma utilizzeremo un ago io uso proprio un ago da lana che mi hanno detto essere una roba molto 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 più facile da utilizzare vediamo se è vero quindi voi pescate la vostra perlina in diretta e poi le andate a posizionare dove volete direi che funziona abbastanza bene con l'ago perché con la pinzetta ho paura che sia un po' complicato perché la pinzetta è bella grossa invece con l'ago l'andate a pescare in modo abbastanza chirurgico beh sì direi che funziona poi è la prima volta adesso devo prendere la mano cari amici e questo è quanto quindi perline piccole vi ho fatto vedere i colori che ho preso la mia lastra che cosa userò quindi l'ago l'ago da lana lo trovate lo trovate nelle botteghe da cucito no lo trovate nei negozi che vendono bottoni fili che non mi viene in mente come si chiamano mercerie brava Lilla che ce l'hai fatta nelle mercerie ci sono ancora sono poche ma esistono oppure chiedete a vostra nonna e sicuramente ne avrà uno e niente dopo di questo ci sarà un super mega tutorial e non vi dico chi sarà il personaggio che sarà oggetto di rappresentazione chi sarà? voi sapete chi può essere? no assolutamente no e niente se lo indovinate scrivetemelo nei commenti tornate qui per vedere il tutorial con le mini perline e per non perdervi il prossimo tutorial ISCRIVETEVI altrimenti lui verrà a trovarvi a casa e combinerà un sacco di casini io ve lo dico ciao